Valeria Arzinton, è una giornata storica per Zed, anche grazie a questa sentenza che è arrivata dalla Gcom. Quali sono le prospettive che ha per questa decisione? Credo sia una giornata storica, una pietra miliare per tutto il settore dell'intrattenimento italiano, perché tutte le vecchie consuetudini, le abitudini operative, oggi possono avere un punto di svolta definitivo a livello nazionale e questo sta a significare un progresso del nostro settore, significa modernità, significa apertura, significa libero mercato. Per noi, per tutti, come dicevo, rappresenta un momento di svolta e questa cosa è molto al femminile, è una storia che rappresenta tutte noi donne operatrici di questo settore, siamo poche, ma siamo molto determinate e credo che in un mondo dominato dagli uomini, soprattutto nel settore della musica e dello spettacolo dal vivo, rappresentiamo una realtà che sa parlare, sa capire, ascoltare anche con il cuore. Io spero che questo sia un buon auspicio per il futuro, per il presente, ovviamente l'emergenza sanitaria sta sovrastando tutta la nostra quotidianità, quindi siamo ancora chiusi da quasi un anno, però con il vaccino in arrivo, con anche questa sentenza che fa capire che il mondo va avanti, secondo me possiamo guardare al futuro e pensare di fare una prospettiva nuova, tutti insieme, di cominciare a lavorare con il sorriso e con un po' più di umanità.